La ragione della protesta è un susseguirsi di continui silenzi da parte sia dal Ministero che dall'Ufficio Regionale Scolastico che stava brancolando nel buio e facendo brancolare nel buio circa 350 famiglie del vincitore di concorso, ex tirocinanti, come personaleata. È il primo gruppo che vince un concorso ma c'è un sistema alquanto arcano che li porta ad avere delle difficoltà nell'assunzione. Noi vogliamo una data perché loro sono vincitori, scadrà a poco il tempo dei sei mesi dopo essere stati dichiarati vincitori a tutti gli effetti. Quindi noi vogliamo una data, punto e basta. Altrimenti oggi si rimane qua, siamo con le tende, presidio statico, fino a quando non avremo da parte del Ministero tramite l'Ufficio Scolastico una data d'assunzione. Ci serve la data, stiamo aspettando, è già da un bel po' e siamo qui apposta per cercare di risolvere il problema. Soprattutto abbiamo bisogno di lavorare perché siamo così, cioè da due anni fermi, non abbiamo nessuna retribuzione, siamo vincitori di concorso e siamo ancora in attesa che il miurci di risposta per iniziare a lavorare, anche perché come potete vedere ci sono tutte queste famiglie che hanno bisogno di lavorare e non sappiamo più come fare.